Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi ho deciso di mostrarvi come ho dipinto dei girasoli con gli acrilici. Il mio obiettivo era quello di usare uno stile impressionista moderno, fatto con grandi pennellate decise e lasciare così che l'immagine si formi piano piano sovrapponendo strati diversi. Come prima cosa faccio uno schizzo veloce a matita, semplificando più che posso la composizione attraverso delle forme geometriche. E una volta che sono soddisfatto della posizione, definisco i fiori e il vaso. Con lo scoccio di carta da 2 cm rivesto i bordi del foglio. Questo permetterà una volta finito il dipinto di avere una bordura definita, creando così una cornice bianca pulita che farà risaltare ancora di più il tutto. Diluisco sulla tavolozza dell'azzurro cielo con del bianco per poi fare una velatura leggera su tutto il dipinto. Vi consiglio di non partire mai da uno sfondo bianco se volete fare un dipinto simile, ma di fare sempre una leggera base di colore prima di iniziare. Metto sulla tavolozza del verde, dell'ogra e del bianco mescolandoli tra l'oro, cercando di trovare una tonalità che mi soddisfi il più possibile. Come prima cosa inizio a dipingere i piani che stanno più in fondo nella composizione, quindi in questo caso il verde dei gambi. Senza essere troppo preciso, abbozzo con pennellate decise il verde dei girasoli. Come ho detto prima, questo è solo il primo strato, poi sovrapponendone di altri andremo a definire tutto piano piano. Per fare i pistilli del girasole uso invece un arancio e della terra di siena bruciata. Faccio più chiara la zona centrale per poi scurirla tutta intorno. Per creare delle texture picchietto con il pennello secco senza utilizzare dell'acqua. Per i petali invece userò del giallo per quelli più luminosi e dell'ogra gialla per fare quelli più in ombra. Una cosa fondamentale è quella di usare in questo caso un pennello a punta tonda. Intingo il pennello in una buona dose di acrilico e inizio dipingendo i petali più scuri con l'ogra gialla. Parto dall'estremità per poi fare una leggera pressione, creando così una bombatura con il pennello e dando attraverso una sola pennellata la forma a ogni singolo petalo. Ripeto lo stesso identico procedimento usando il giallo. cercando di dare forma e movimento a ogni pedalo. con il verde scuro inizio a dare qualche accenno di ombra ai gambi dei fiori. Con del verde chiaro inizio a lavorare sul vaso, cercando di dare un effetto trasparente, aggiungendo con il bianco i punti luce. coloro il piano con una base di terra di siena e ocra, creando zone di luce e zone di ombra. Per cercare di rendere più armonioso ed interessante lo sfondo, creo delle zone colorate, usando del rosso sfumato con ocra e schiarito con il bianco. Lascio libera la fantasia nel giocare col colore, alternando punti freddi e caldi. tolgo lo scoccio di carta e questo è il risultato finale. Ci tenevo tanto a dipingere qualcosa di primaverile, visto che in questo periodo la primavera tende a tardare. Spero che questo video vi sia piaciuto e se è stato così non vi dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale se non lo avete già fatto. Provate a dipingere qualcosa in questa quarantena, sia per rilassarvi che per tenervi un po' impegnati. E se in qualche modo vi sono stato di aiuto e decidete di realizzare qualcosa di simile, taggatemi su Instagram sui vostri lavori. Il link, come sempre, è nell'info box in basso. Un abbraccio e noi ci vediamo presto, sempre qui sul mio canale.